Qui c'è una signora molto particolare che sta dimostrando a tutti i giovani che a qualunque età si può imparare e che è bene mantenere attivi i neuroni, vero? Grazie, più si partecipa e più si rimane vivi e attivi. Ecco, brava, grazie, ti ringrazio perché sei un esempio per tutti noi. Sono buono, è buono. No, no, è così. Marketing etico È partito il corso di Marketing etico, una delle dieci materie di Naturopatia dell'anima, frequentabile anche online. È nostra premura aiutare tutti i nostri associati che hanno già un'attività o coloro che hanno conseguito attestati nel mondo culturale e olistico allo scopo di aprirla. Perciò sappi che, se hai una piccola attività ma non ti adegui alle strategie di marketing delle grandi aziende, rimarrai invisibile e senza speranza di successo. Se stai per iniziare la tua piccola attività e non conosci le tecniche di marketing, sarai sommerso e sopraffatto da chi invece le conosce e le usa già da tanto tempo. Ora hai la possibilità di non restare indietro e rimanere al passo con i tempi senza schiacciare la tua coscienza e senza perdere la tua onestà. Se hai già cercato un corso marketing e ti hanno proposto costi esorbitanti, finalmente potrai avere le stesse utilissime informazioni a costo di insuperabile opportunità. Ma chi l'ha detto che non sia possibile usare le strategie di marketing con successo e in modo onesto? Se sei sincero e leale, potrai usare le strategie di marketing in modo etico per non essere annichilito da chi invece le usa in mala fede e in modo amorale, facendoti concorrenza in maniera sottile e per nulla trasparente. Come sempre lo studio Gayatri offre enormi vantaggi ai propri associati. Se necessiti di un serio approfondimento per aiutare il tuo futuro, non lasciarti sfuggire questa grande opportunità. Paghi, paghi, paghi per imparare tante cose, ma poi come recuperi i tuoi soldi se non impari anche a renderti visibile nel mondo dei social, a renderti visibile sul mercato. Tratto dal corso Naturopatia dell'anima, marketing etico. Grazie a tutti.